Buongiorno e benvenuti alla giornata innamorale di mattina 2019! La città di Matera restituisce al suo patrimonio storico il luogo dove in fondo sono stati cavati blocchetti per blocchetti di tufo, a mano, per costruire monumenti e le case dei sassi. Se è vero che i sassi sono patrimonio unesco, questa è la mamma del patrimonio. La prima città del sud a essere scelta come capitale europea della cultura. Questa scelta riveste il significato, attenzione, che va ben oltre il riconoscimento del valore e delle potenzialità di una città e del suo territorio. E al contrario un'occasione per tutto il meridione che in Matera oggi e per tutto il 2019 è simbolicamente rappresentante. La coperta isotermica è il momento dell'accoglienza in realtà di un migrante quando viene salvato. Per un migrante significa che è la vita. Ora vogliamo ricordare tutte le morti e che in questo momento succedono nel Mediterraneo. La città dei sassi, che nel dopoguerra immediato teneva in fine la sua struggente bellezza, e in condizioni di povertà estrema, la stessa materia è la realtà che l'Italia oggi offre all'Europa per mostrare come la propria storia, anche la più antica, possa aiutarci ad aprire le porte di un domani migliore. Grazie! 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 Grazie!